Salve popolo terrestre e benvenuti in questo video. E' possibile determinare la forma della Terra osservando le rotte aeree? Beh, siccome non voglio farvi perdere tempo prezioso, vi dico già che personalmente la risposta è sì, e che ci saranno conclusioni principalmente a favore dei globisti, ma anche a favore dei terapiatisti. Dunque partiamo da questa mappa, in cui ci sono disegnate tutte le rotte aeree del 1944, e che sono ancora utilizzate attualmente. Se non ci credete, ve lo dimostro tramite Flyrider 24. Come vedete, i percorsi degli aerei sono gli stessi. Quindi questo vuol dire che la Terra è piatta? Purtroppo no. Perché purtroppo? Beh, perché se leggiamo la descrizione della mappa, c'è scritto che la mappa di Mercator è un'immagine piatta cilindrica di come è la Terra. Quindi questo vuol dire che la Terra è cilindrica? Beh, innanzitutto la proiezione a cui si riferisce è questa qui, e non quella circolare piatta. Allorché ho pensato ad inserire questa mappa su una Terra sferica. Ma noi già sappiamo che calzerà a pennello. Perciò mi sono chiesto, e se metto la mappa della Terra piatta con le rotte aeree su una sfera? Beh, tenetevi forte perché le rotte aeree della Terra piatta calzano a pennello su una palla. Sono tutte rotte lineari e parzialmente dritte. Questa significa solo una cosa, che le rotte aeree disegnate sulla Terra piatta sono basate seguendo il modello sferico. È per questo motivo che non si riusciva a capire come mai su una Terra piatta le rotte aeree reali calzavano a pennello. Dunque ora sappiamo anche da dove deriva il logo dell'ONU, da questa proiezione polare delle rotte aeree. Quindi a malincuore devo dire che la Terra è tonda, magari un po' ovalizzato o cilindrica. Tuttavia sta di fatto che la mappa della Terra piatta con le rotte aeree è una mappa ufficiale e che probabilmente viene usata ancora ora per la navigazione. Quindi cari globisti, che lo vogliate o no, la mappa della Terra piatta non è una barzelletta o un complotto. Comunque miei cari amici terapiattisti, state tranquilli, perché il fatto che la Terra sia tonda non vuol dire che all'improvviso la NASA e le altre agenzie spaziali e tutto il resto del sistema hanno di punto in bianco ragione o che ci hanno detto e mostrato la verità assoluta. Infatti ho trovato un'altra cosa sulla NASA che spiega esattamente cos'è il loro logo. Inoltre ho capito anche come funziona la gravità, ma tutto questo ve lo dirò nel prossimo video.